Musica Ben ritrovati amici e amiche all'appuntamento con le previsioni per questo giovedì 29 dicembre. Una vasta area di alta pressione posta sull'Europa centro-occidentale favorirà la discesa di area artico-continentale dai Balcani sin verso il lato adriatico della nostra penisola, quindi favorirà l'arrivo di un'intensa perturbazione di stampo invernale. Al mattino in Abruzzo avremo quindi condizioni di spiccata instabilità con rovesci diffusi a prevalente carattere nevoso, sin a quote molto basse, sin verso i 100-200 metri di quota. Sulla costa pioggia mista a neve e localmente anche a Grandine. I fenomeni tuttavia saranno sparsi e non di forte entità. Al pomeriggio ancora locale instabilità, specie sulle aree montuose a causa del fenomeno dello stauco, nevicate sin verso, quote prossime al piano sulle coste, locali precipitazioni di pioggia mista a neve. In serata, tempo in graduale miglioramento, qualche residua precipitazione sull'Abruzzo meridionale, specie sulle zone più interne, dove avremo ancora qualche residua nevitata. Ma fenomeno in graduale attenuazione, tuttavia il tempo, il clima si manterrà molto rigido e soprattutto ventoso. Con questo abbiamo concluso, grazie per essere stati qui noi, vi auguriamo una buona giornata. Grazie